Ciao, benvenuti in questo video. Questo che stai vedendo è un Volvo seconda serie dove ho appena terminato l'impianto CB. Voglio vedere insieme a te quello che è stato fatto. Allora, come primo lavoro è stata posizionata questa staffa. È una staffa in acciaio inox by trackpoint dove l'ho posizionata, come vedi, in questo punto con due appositi rivetti. Questa staffa è atta per installare sia antenne corte, come questa che vedi che è un'antenna power, alta potenza 800 watt pretarata, alta 1,60 m, massima flessibilità by trackpoint. Ma è anche fatta più che altro per antenne da 1,90 m, dove come sai più la metti in alto più c'è la probabilità per l'appunto di ripiegarla o comunque di doverla abbassare. In questo sistema eviti tutta questa operazione e questa staffa è una staffa che può andar bene sia per il Volvo prima serie, seconda serie e terza serie, ossia fino all'anno 2010. Dopodiché ho fatto passare il cavo qui attraverso le battute della porta e ho installato l'Alan 48 con dovute modifiche come l'illuminazione blu che stai vedendo. Io sono Umberto di Trackpoint e mi occupo da 29 anni di riparazioni, installazioni, modifiche di riccia trasmittenti CV in provincia di Cremona su camion, auto, fuoristrada, camper e mezzi agricoli. Se anche tu hai un camion come questo e devi realizzare l'impianto, come tempistica ci vuole indicativamente un'ora. Per ulteriori informazioni, non esitare, puoi chiamare direttamente i numeri qua in sovrimpressione lo 0 375 98 340 o sul numero di cellulare il 335 446 595 che è anche il numero di Whatsapp. Sarà un piacere insieme trovare la miglior soluzione per il tuo camion o il tuo mezzo. Da Umberto di Trackpoint ci vediamo al prossimo video.